buongiorno a tutti oggi è martedì tolgo i denti che significa tolgo la macchinetta allora mio fratello è appena andato al lavoro mia madre è andata alla mia zia io mi preparo la golazione e poi mi metto a lavorare di là in tutto ciò codino ha fatto un lago maggiore in casa perché non ce l'ha fatta più a resistere ha iniziato come vi ho detto ieri di nuovo la cura del medicinale per muovergli il colon e spero che oggi faccia perché non so cosa inventarmi questa cosa mi spaventa ancora di più perché cacchiarola gli abbiamo fatto la quarta operazione perché non funziona va bene ho già acceso il computer e appena finisco qui lo metto a caricare la puntata del vlog che ho girato ieri il caffettino oggi sarò da solo tutta la giornata alleluia il che significa che posso stare in santa pace senza essere rotto le scatole da nessuno sempre se ovviamente non iniziano a squillare a destra e manca telefoni in tutto ciò manca veramente poco al comicon e ancora non hanno pubblicato un programma e io ancora quindi non so cosa gestire come gestire i quattro giorni perché di solito o meglio dall'anno scorso ho fatto una scelta di quelli che sono gli eventi soprattutto le conferenze in base a quelle poi gestivo il resto dei giri nella nella fiera quindi voglio capire loro cosa hanno intenzione di fare in base a questo poi pubblico come già ho fatto l'anno scorso sul blog di recenso e quelle che sono le mie attività scelte così se qualcuno è interessato poi mi mi può far compagnia se vuole passiamo il tempo così al comicon altrimenti nisba faccio colazione a dopo ho appena fatto un schizzetto che è venuto un po male come proporzioni perché come al solito io devo andare di frescia con questo schizzetto faccio un piccolo disegnino come ho fatto più o meno l'anno scorso col quale in pratica dico che recenso sarà al comicon ora che l'ho fatto a matita perché mi scocciavo di abbozzare al digitale direttamente ora che l'ho fatto a matita magari devo accorciare un po il piede qua ecco qua lo fotografo lo acquisisco in photoshop e inizio a passarlo direttamente al digitale anche perché ci sono un po di cose che devono essere modificate troverete ovviamente questo video poi sul canale di oirad ovviamente mangio nerdeggiando con i tudor sto un po scocciato ma non chiedetemi perché ancora non l'ho capito probabilmente per codino solita contro luce continuo a rimanere contro luce ma non fa niente dicevo sono scocciato forse per codino perché continua a fare pipì in continuazione ma ora sono andando a prendere la spesa di una signora che vuole donarla alla caritas della parrocchia e poi scendo per l'incontro dei giovani dopodiché a quello che ho capito si va a pozzuoli perché vogliono mangiare la pizza quindi ci vado bene io stasera probabilmente so così perché ho paura che l'intestino di codino si riempia toppo e possa succedere qualcosa internamente e non possiamo farci nulla che cazzo è guai questo è fatto ora vado a vedere dal cinese il fatto che vi dissi per fare il cordoncino la catenella o comunque qualcosa per mantenere il medaglione di recenso per lo sottovoce perché ce l'ha messa guardate quanto cazzo è grossa questa pezzata a te a te a a a a a da gli avuti ma ce la torre nella paella ma ce la torre 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 finalmente sono di ritorno a casa è quasi la mezza sono non stanco pienissimo perché come avete potuto vedere in questo ristorante abbiamo mangiato da far schifo ma far schifo in senso positivo perché era tutto buonissimo la frittura molto leggera e saporita e le pizze erano enormi io c'ho un bambino dentro la pancia mamma mia in tutto questo sono andato anche a vedere per quel fatto per finire il ciondolo di recenso non ho trovato ancora nulla devo fare prima delle prove per capire come arrangiare vi ringrazio ci vediamo domani lunga vita e prosperità non volevo fare pubblicità ma tanto quando vedete le immagini lo capite che dovessero e sono andato via qui per mercoledì